In una nota, l'Associazione Noi per la Salute Tinenselmi esprime la propria posizione sul tema del policlinico universitario, dichiarando che un policlinico va allocato sempre dove ha la sede l'Ateneo, ed è opportuno precisare che Caltanissetta è una sede distaccata della Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo. L'Ateneo di Palermo, quindi, se vuole, può decidere, come del resto avviene nelle città metropolitane, di istituire un secondo policlinico. Pensiamo quindi che, se vi è la volontà politica di fare questa scelta, essa sarebbe coerente con la centralità della nostra città, all'interno del bacino sanitario Enna Caltanissetta-Agrigento, e in più potrebbe avvalersi dell'unico DEA di secondo livello presente in questo vasto territorio. Ma questa proposta non può non tener conto dell'assoluta necessità di ripristinare gli standard di efficienza del DEA di secondo livello, con la presenza di organici adeguati e al contempo con l'istituzione di quei reparti specialistici che consentono ai cittadini di avere una migliore assistenza e ai potenziali studenti un'offerta formativa completa. Le due facoltà di medicina private di Enna hanno tutto il diritto, con fondi propri, di istituire il policlinico come avviene nei centri metropolitani. A questo punto devono essere i sindaci, la deputazione regionale e nazionale della nostra provincia, che devono dimostrare con il supporto e la stimolazione dei cittadini di avere a cuore il benessere sanitario.